Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio farvi vedere un po' com'è la mia giornata tipo siamo a novembre e prevalentemente mi sto concentrando sulla riabilitazione del ginocchio ancora purtroppo per chi di voi non lo sapesse mi sono rotto il ginocchio alla prima tappa di Coppa del Mondo di Leogang a seguito ho avuto un'operazione chirurgica per riparare il crociato e due menischi l'operazione è andata bene però ovviamente è un processo lungo di riabilitazione sono tornato già in sella però bisogna sistemare tutto perfettamente in vista della prossima stagione quindi mi sto concentrando appunto su far ricrescere la muscolatura e avere la massima estensione possibile del ginocchio però devo dire che sta andando tutto per il verso giusto nel particolare oggi vedremo esercizi appositi per il ginocchio faremo dello squat frontale, degli affondi posteriori sempre con la singola gamba poi degli esercizi sullo skimming un po' più di propriocezione e poi forza brutta con la leg extension sempre solo a una gamba nel pomeriggio per trasformare un po' in tutto andrò in bici farò un giretto in enduro stile gara di enduro quindi con delle risalite pedalate e più sentieri possibili penso che oggi riusciremo a farne tre e vi porto con me appunto anche sui sentieri quindi non perdiamo tempo e iniziamo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allenamento in palestra è finito, adesso si mangia, mi cambio e si va in bici. Andrò in bici l'enduro però anche con quella in salita farò un po' di esercizio, nel senso che pedalerò per dei minuti con una sola gamba. Visto che ho gli agganci riesco comunque a dargli tutto il giro alla pedalata e si fa crescere un bel po' la forza sulla gamba destra. Grazie a tutti. 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 No, secondo me qua si può fare qualcosa.